In serata al Barrizzo con lo slogan La politica che unisce, il già parlamentare Antonio Cuomo racconterà i motivi della sua candidatura a sindaco con Italia Viva e delle liste civiche a suo sostegno. Inoltre sarà presente al suo fianco un pezzo da 90 della politica provinciale, l'avvocato Martino Melchionda, che è stato sindaco della città di Eboli. A moderare sarà la giornalista del Sole 24 Ore, Rosaria Sica, ma sempre nel centro-sinistra emergono altre novità. Infatti, se da un lato ufficializza un nuovo candidato a sindaco, Antonio Cuomo, dall'altra parte il PD non sembra trovare la quadra. Ieri sera, infatti, come un fulmine a Ciel Sereno, Lucas Groia, presidente dell'azienda Improsta, ha declinato l'invito ad essere candidato alla fascia tricolore della città di Eboli. In una nota ha ribadito, con un grande senso di responsabilità a ritiro, la disponibilità a candidarmi a sindaco per l'unità del centro-sinistra. Questa decisione, quindi, apre spazi nel PD. Adesso la corsa è a tre, tra Damiano Capaccio, Cosimo Cicia, Luigi Morena. In pole position dovrebbe essere Capaccio, ma mai dire mai, infatti, molti sono stati colpi di scena. Probabilmente, però, una decisione definitiva sarà presa nella giornata di sabato, quando, sul nome del papabile sindaco, si dovrebbe avere anche il placet dei vertici provinciali.